namaste io sono ace brave bentornati un altro episodio di nuclear throne come potete vedere dei risultati abbiamo fatto una run abbastanza schifosa ieri ma se vedete il trend abbiamo fatto schifo bene schifo e adesso dovremmo fare bene di nuovo c'è stato un update quindi ho già regolato i volumi di nuovo vediamo un po di che update si tratta sono curioso di sapere che cosa hanno cambiato perché come vedete i nostri personaggi sono di nuovo da sbloccare tutti quanti update 73 dice nuovi suoni per le armi shield sfx ok tiny art update ok hanno migliorato un po di robe grafiche potrebbe essere molto interessante qua sotto hanno migliorato decisamente le pistole e qua vedete la pistola dorata di yv andiamo a fare una run random e vediamo un po che cosa ci capita tra l'altro rug con il suo fucile non è niente male e adesso probabilmente cambieranno anche la grafica delle pian piano cambieranno anche tutta la grafica di queste cose di queste cose qua qua mettiamo non random posso uscire da qua in qualche maniera facciamo il tasto destro di nuovo facciamo random e ci picchiamo chicken chicken l'ho usato molto recentemente quindi secondo me no anche se prima o poi dovrò utilizzare cioè dovrò utilizzarlo di nuovo con chi se no ce lo scegliamo direttamente abbiamo fatto steroids è un po che non utilizziamo quindi proviamo a fare una run col signor steroids che come vedete ha le due pistole e vediamo un po cosa ci capita se siamo fortunati poi nella baby possiamo smanettare tantissimo con le sue due pistole steroids è un personaggio che apprezzo tantissimo perché proprio mi dà la possibilità di fare questa cosa qua che è molto molto bella il lancia granate non lo prendo anche se dovrei forse comunque siamo già a livello due e mezzo quasi quindi molto bene che cosa prendiamo prendiamo IR ammo e proviamo a tenerci le armi uguali in certo senso vediamo come ce la caviamo sto sprecando tanti colpi si lo so però è fatto apposta anche perché ho preso back muscle all'opposta proprio perché dovremmo riuscire ad avere più cose non siamo a livello 3 però siamo già a livello 1 o 3 quindi il bandito ci aspetta adesso siamo a livello 3 adesso siamo a livello arriva il signor bandito ok poco spazio di rimuovra ok e vediamo di riprenderci un po di roba molto facile come personaggio e come boss trovo questo personaggio molto buono non come YV probabilmente perché sono affezionato già a YV però questo va bene direi che un fucile d'assalto ci può anche stare per migliorare ancora di più la nostra cosa se riesco a trovare un doppio fucile d'assalto sono ancora più figo però per adesso direi che va bene così ci prendiamo potrebbe essere Trombat che mi dà ancora più ammo si centralizziamo con Trombat questa cosa vediamo se funziona e recuperiamo un sacco di colpi si con 13 bullets così siamo quasi morti quindi stiamo attenti questo è il mio telefono che fa casino ah ho preso tantissimo danno a contatto mi distrae un po' il telefono in questo momento quindi vediamo di togliere la vibrazione ok direi che può essere anche una run di partenza di riscaldamento giusto per scaldare un pochino le dita e direi che partiamo con la daily come vedete siamo più o meno a metà della daily vediamo cosa riusciamo a fare nella daily bene propria ok facciamo un pochino più conservazione però mi piace il fatto che steroid abbia dual wielding la run serve più che altro per ricordarsi come funziona il personaggio eccetera 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 per avere un po' il feel del tasto destro potrei anche usarne una sola per risparmiare qualche colpo ok e vediamo intanto di andare giù l'altra cosa è non prendere due armi esattamente uguali per evitare di fare l'altra cosa ma magari prenderne due diverse e utilizzare come ci facciamo sempre ma praticamente possiamo sparare più velocemente per esempio se io prendessi la maestra su una delle mani anche lo shotgun credo ci stia possiamo pur sempre fare così ogni tanto boom sparare con l'altra ok vediamo di prenderci anche questo ci prendiamo non last wish impact race potrebbe essere lucky shot lucky shot fucile funziona bene sugli scorpioni assolto rifle sostituisce questo su cui riesce il revolver sempre almeno per l'inizio è un'arma molto forte il contratto qua dobbiamo farci un po' di spazio ho messo tre o due di magia aiuto ok vediamo di far così liberarci un po' di spazio ok e ce l'abbiamo fatta a sconfiggerla au non avevo visto quel piccolino lì ok prendiamoci ancora un po' di bullets e andiamo giù vediamo se ci sono altri magic in giro ho perso un po' di energia qua ok max shell e un bel po' di bullet strong spirit andata del resto non l'ho neanche visto dovrei guardarlo meglio lo so però strong spirit non si rifiuta mai per sopravvivere un po' di più ok questo è il nostro angelino felice ok abbiamo bisogno di più medit oh c'ho un medic gigante mio voglio quel medic play ok siamo tornati al massimo dell'analisi molto bene ok voi non lo studete quindi posso anche un'analisi ok ok non calmo questo non è crossbow al posto del del fucile direi di si così abbiamo il puntatore che funziona rabbit paw ex boiling vein rabbit paw direi che ci va bene questa zanzetta ah ah ok ok ce l'abbiamo di qua questa è la famosa macchina che possiamo esplodere ancora qualcuno va sopra c'è altro e starmi qui doppio crossbow doppio crossbow forse meglio di tutto ok ok pensavo che quello fosse vivo ma invece non è quindi andiamo giù così e esplode in questa maniera qua molto violentamente ma al punto stesso in maniera molto eclatante spiglia aiuto 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 nooo nooo ho perso tipo 7-8 di energia in questo corridoietto qua ah questa volta ci ha fregato però siamo arrivati al 3-2 non è andato a malissimissimo si può far di meglio ma di giorno in giorno si migliorano intanto abbiamo di nuovo sbloccato tutti quanti rank mille addirittura quindi non siamo neanche nei primi mille questo giro ce lo dice proprio questo e ci vediamo domani con un'altra run di Nucleartrone io sono Ace Brave grazie a Coro della Revisione namaste be brave grazie a tutti